siamo qua con Daniele da Modena e tra l'altro mi hai fatto un regalone quella maglia è fantastica grazie mille di cuore è fatta apposta per le persone fantastiche spero di averti ricompensato con un prodotto eccezionale questo tra l'altro è una novità perché un 10 pollici con queste funzioni non l'abbiamo mai installato era in produzione mi hanno fatto una sorpresa che nel momento in cui me l'hai ordinato era disponibile partiamo subito con il dsp dove va a cambiare l'impianto audio della macchina ricordiamo che questa è una infiniti quindi abbiamo dovuto sostituire l'amplificatore originale con un bel quattro canali hertz e abbiamo recuperato tutto il sound poi andiamo e questo è il recupero comandi al volante e radio passiamo al DAB quindi abbiamo anche una radio digitale in più abbiamo quattro giga di ram e rom che è l'hard disk da 64 giga ovviamente qui abbiamo poco segnale a volte ritorna comunque operativa da 178 anni ecco qua il DAB stazioni memorizzabili nel momento in cui cambi regione puoi fare la ricerca in automotiva via voce bluetooth streaming musicale google www.audelite.it www.audelite.it hai visto che velocità di esecuzione www.audelite.it un trailer in quattro gaffa i am human evolutionary change bulletproof superhuman who the hell are you bad guy the mission has been compromised we need help our target name is Brixton he's a ghost we're gonna need the best trackers in the business Luke Hobbs I'm what you call an ice cold can of whoop it abbiamo installato abbiamo recuperato anche la retrocamera originale e ripartiamo questo è un trailer poi se vogliamo vedere un video in 4k andiamo direttamente qui io ti ringrazio e ti auguro un buon viaggio di ritorno grazie mille a voi un saluto a tutti e grazie mille grazie mille